I ultimi incidenti hanno sollevato polemiche feroci e non solo, sullo stato attuale nella quale è versa la statale 158, soprattutto lungo il tratto che interessa quali a Volturno e Montaguila. Ci sarebbero, a detta degli automobilisti, situazioni da risolvere velocemente, che generano ogni giorno problematiche relative alla sicurezza degli stessi. Sotto la lente di ingrandimento i due svincoli, il primo per scapoli e il secondo per quali a Volturno, entrambi sarebbero poco sicuri e soprattutto sarebbero stati realizzati ormai con metodiche ampiamente obsolete e superate per l'attuale molle di traffico stradale che la statale ospita ogni giorno. Le automobilisti chiedono all'ANAS, azienda che gestisce questi tratti stradali, delle rotonde o dei golfi di fermata per i mezzi pubblici, utili a far scorrere meglio il traffico e a migliorare visibilità e sicurezza su questo tratto stradale, soprattutto all'altezza del bivio maleditto, così soprannominato per la grande molle di incidenti avvenuti negli ultimi anni. Estate calda per la viabilità della valle del Volturno con gli automobilisti che iniziano ad alzare la voce.